Allora, ci stiamo a fermariggiare piano piano le mani, così, dieci, a zero rilancio tutti i piedi permanenti, quindi la parola dovrebbe essere seguita dalla, dieci, notiamo la staglia, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, go! Estrani! Dovrebbe fa una束! Lo to' diciamo che non si prende, se 불�iano soprattutto le mani, che non sopra bisogna ad una differenza, lascia compiare da tutto il piano. Schiamope e chiunque tempo, si abitando такого, ah. Grazie